Emergenza nell'emergenza è quella sanitaria perché in queste ore se qualcuno dovesse sentirsi male dalla parte di Amalfi dovrebbe andare o all'ospedale di Sorrento circa un'ora di auto oppure usare l'elicottero. Sono state posizionate due autombulanze a due margini della strada chiusa per consentire il trasporto di eventuali infermi verso Castiglione ma è comprensibile che si tratta comunque di una soluzione tampone. Sui tempi c'è un punto interrogativo, da quello che abbiamo capito il masso andrà rotto in parete quindi verranno scusciti alcuni metri quadrati di rete metallica che trattengono questo masso, verrà disintegrato in parete e quindi disganciato lentamente. Però c'è anche un lavoro di pulizia, l'auspicio è che si apra la strada almeno a sensi di marcia alternata quanto prima perché è un punto cruciale soprattutto perché a pochi metri di distanza, meno di un chilometro c'è il presidio sanitario di Costa d'Amalfi. Oltre ai turisti, ai pendolari, agli studenti chiaramente questa è l'emergenza più grande. Sicuramente l'emergenza più grande però resta ovviamente il problema della sicurezza che è quello diciamo legato all'assistenza sanitaria. Intanto come disposto dal sindaco di Amalfi Daniele Milano viaggiano da oggi battelli da Amalfi e Maiori per studenti e pendolari, anche qui si cerca di alleviare i disagi, intanto un summit della Sita per cercare soluzioni, impossibile al momento posizionare navette. Nel frattempo abbiamo spostato il Capolinea al Bivio di Castiglione e abbiamo le partenze per Salerno tutte lì. Ovviamente se abbiamo i tempi di percorrenza sono rispettati perché anziché partire alle 8 dal Capolinea di Amalfi, ad esempio partono alle 8 e 10. Quindi c'è un trasferimento di 10 minuti, viene posticipata la corsa di 10 minuti per ogni partenza. Un posto peggio di questo non poteva capitare credo, no? Sì, sì, perché ci ha diviso proprio in due, ci ha chiuso proprio, soprattutto per noi che abbiamo sulla Salerno e la Ravello abbiamo un traffico molto intenso. Però purtroppo è il territorio, il problema è questo qua perché io da qui o dall'altro lato verso Sorrento sarebbe stata la stessa cosa. Forse questo è un po' peggio perché è l'unica via di fuga, diciamo tra virgolette. Grazie a tutti.